Ben ritornati ragazzi su Sentence! L'ultima volta avevamo finito di hackerare il computer del tenente che io mi ero scordato di dover fare off camera quindi l'ho dovuto fare prima di registrare il video la scorsa volta tutto così veloce e sono impazzito ma oggi non dovevo fare niente quindi non mi sono scordato di dover fare niente quindi perfetto, iniziamo il gioco allora, non mi ricordo che era successo oltre a questa facenda ma non importa, scriviamo noi al gruppo indagine non mi ha detto niente ah giusto perché abbiamo provato a parlare se non sbaglio con Zavatsky però non ci ha detto niente, non mi ricordo di qualcosa non mi ricordo su cosa non ci ha detto niente però vabbè, non mi ha detto niente come mai? penso che ci sia sotto qualcosa io non so neanche, neanche io so su cosa stiamo parlando però va bene, penso che ci sia sotto qualcosa su questa cosa che non so Helen, Henry, pensa che in città ah ok scusate Helen, Henry pensa che in città lo spaccio di droga sia controllato dalla polizia ciò che abbiamo trovato sul computer del tenente sembra confermarlo comunque mi sono scordato di fare la voce stupida ad Helen che era tipo come mai? ok e io scrivo adesso mi auguro che questo non diventi un articolo da sbattere in prima pagina è per questo che non lavoro più per la polizia non è vero, ci lavoriamo ancora però va bene andiamo avanti vai sbrigati però se dico andiamo avanti vuol dire che io devo andare avanti con il video se tu non scrivi io non posso andare avanti ora state andando avanti anche troppo velocemente quindi devo sbrigarmi in sostanza non vogliono che nessuno parli con le altre persone che hanno arrestato perché potrebbero dire qualcosa che non va al tenente ho il dovere di informare i cittadini di una cosa del genere ne parleremo dopo che avremo catturato l'assassino ok che vuol dire non se ne parla proprio però va bene solo che se scrivevo quello poi relazione peggiorata è meglio fare una relazione migliorata che non migliora veramente scusami non eravamo so amichevole con Helen beh con questo stavo dicendo meglio avere una relazione migliorata che non migliora che una relazione peggiorata che peggiora meglio così ragazzi altrimenti finiresti per implicare anche me e Michael d'accordo no se ti ho sbagliato voce d'accordo non farò nulla senza il vostro permesso ma questa discussione non è chiusa va bene e poi la chiudiamo poi chiudiamo il gioco e non è che la conversazione è chiusa ma tutte quante proprio tutte sono chiuse ho un'idea se entrassimo nel server ecco se entrassimo con questo se entrassimo lo intende se entrassi tu Fabrizio non manco Henry tu Fabrizio vabbè non importa se entrassimo nel server della prigione potremmo aggiungere Ellen all'elenco dei visitatori come entreremo nel server c'entrerò io per esempio potremmo farti risultare come un pubblico ministero federale no tu devi parlarci tu Michael potrebbe avermi visto in televisione a Henry e ai domiciliari non penso che ti riconoscerebbe è più probabile che parli con una donna non possiamo rischiare devi andare tu Michael yay per una volta non devo fare una cosa io che bello chiederemo aiuto a Zavatsky vai sbrigati Michael perché stai facendo tutte queste storie perché sei un criminale sì siamo tutti criminali però va bene cioè ora che io ci penso scusami noi stiamo rischiando di andare in prigione noi stiamo scoprendo chi è l'assassino per non andarci in prigione però scusatemi quando noi scopriremo chi è l'assassino tutti quanti verranno a sapere come l'avremo scoperto e verranno a sapere che abbiamo hackerato tutto abbiamo hackerato assedda ora devo fare la lista completa della spesa e delle cose hackerate allora ho rotto tutto mi sta cadendo il telefono ho rotto tutto non importa il laboratorio dipartimento risorse umane dell'ospedale servizi sociali archivio operatore telefonico elenchi ospedalieri dei pazienti di oncologia computer portatile di bella sito dell'operatore virtuale sito dell'assistenza telecamere di videosorveglianza della città database delle multe computer del tenente ci abbiamo hackerato di tutto e poi andremo in prigione comunque quindi non è che stiamo risolvendo tanto ma va bene andiamo avanti sto solo suggerendo delle alternative va bene immagino che non ci sia altra scelta sono connesso al loro server ottieni queste non mi imbrogliare sai ecco lo sapevo quanto ci avrei scommesso dobbiamo creare ancora una cosa quindi si è aggiunta alla lista server della prigione così da un momento all'altro che bello benvenuti sul server cos'è vedo un simbolino ma ancora non si non si vede bene aspetta perchè c'è lo schifo in mezzo togliti schifo è una specie si è una chiave perchè ci sono non mi dire si le chiavi aprono queste serrature queste serrature queste serrature neanche me l'ha spiegato il gioco ci sono dovuto arrivare da solo e io di solito non arrivo alle cose da solo ma va bene non posso fare altre chiavi gioco sbloccami le serrature e passa non mi rompere mamma mia ok facciamo cadere anche un'altra chiave ma inutile perchè poi non la possiamo fare ah una chiave l'abbiamo sbloccata che bello ah mi ha sbloccato quella la inutile lì messa lì che non sapeva neanche che doveva fare ma vabbè facciamo un quadrato non è vero facciamo un quadrato blu non è vero vabbè ah una mossa sola dopo e ho fatto un quadrato blu allora mi prendi in giro il gioco ma ma proprio sei cattivo abbiamo finito i quadrati rossi e anche i quadrati blu non è vero non so contare una mossa solo vabbè abbiamo sbloccato ora tutto ora che ho finito non è vero non ho finito oh ok no mamma mia mi finiscono le mosse vai finisci sta cosa da carare ma tanto devo carare anche un'altra stellina quindi che bello ci sono delle novità non credo ma proprio per niente e fortunatamente non ci sono novità cioè di solito le novità che ci sono in questo gioco non è che sono molto belle cioè sono più brutte notizie che belle notizie mhm già vabbè che tristezze mamma mia hanno rimescolato tutto e mi è preso tipo un infarto perché hanno rimescolato il coso perché non c'erano più mosse tipo non ho capito che sta succedendo cosa è successo vabbè andiamo avanti stavo per spegnere il telefono non sarebbe stato molto buono ragazzi ok ho aperto la prima delle porte anzi l'ultima delle porte ma vabbè l'ordine cronologico non è un'opzione non per me almeno un'altra porta aperta non abbiamo altre cose serrature no perché le porte in questo gioco sono altre cose niente niente sono state inutili queste due mosse questi due quadrati sprecati malissimo quadrato rosso no 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 vabbè niente c'è due mosse dopo e si è formato il quadrato rosso no mi sta prendendo in giro allora qua qui chiaramente mi sta prendendo in giro non è normale sta cosa cioè no non metto più anzi metto subito pausa perché così ho altri quadrati e abbiamo finito ok per un secondo mi sembrava di non aver finito perché avevo letto tipo male i numeri però comunque ho finito va bene leggo male però gioco ti calmi ha laggato un sacco per una notifica sola ha fatto tipo visto e si era fermato e poi ha continuato boh vabbè no io sono sempre più stupito cos'è 0.1 no 01.10.2020 però qua 16 e 44 ah perché queste sono le note quindi sono scritte diversamente perché non è la signora note ok 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 allora sbagliavo io sempre ok abbiamo scoperto il nome dello spacciatore che potrebbe aver venduto il metadone all'assassino e alla prigione in cui si trova quanto fiato si chiama Sam Boyle non me lo ricordavo questo nome visto che la polizia gli impedisce di comunicare con l'esterno Michael ha deciso di violare il server della prigione per organizzare un incontro con lui sì ma dato che lui sa che rare molto meglio di me perché non le fa lui queste cose che già io rischio di andare in prigione perché le devo fare io queste cose non ha un senso ah ora c'è il padre della seconda ragazza rapita nonché uccisa adesso che precisamente noi gli volevamo parlare ma lui ha detto adesso non posso sì sì secondo me non voleva non è che non poteva ma vabbè voleva parlarmi anzi voleva parlarmi a dire la verità dopo tutto quello che è successo non sono dell'umore di parlare con nessuno vai però parla cioè ho capito che non sei dell'umore però di qualcosa sei iniziato la conversazione eh ma se l'aiuterà a catturare l'assassino di Bella ci sto ok grazie eh vai potevamo anche dire non pensavo che tenesse tanto a lei perché ha fatto qualcosa oh non mi ricordo completamente vabbè ehm cosa vuole sapere ha parlato con la polizia di recente posso chiederle cosa le hanno chiesto cosa le hanno chiesto volevano sapere se Bella aveva una ragione per fuggire di casa cosa ha risposto chiediamo noi molto più velocemente di lui perché noi siamo bravi e ci basta fare un click per scrivere tutta la frase è che io non ci penso a questo a noi basta fare un click per scrivere tutta la frase loro lettera per lettera quindi potrei essere un po' più gentile ma non lo sarò mi è morta la voce non lo sarò non sono mai riuscito a capire cosa girasse per la testa di quella ragazzina le abbiamo dato tutto quello che potevamo cibo abiti di cosa ah sì perché lui era cattivo come padre vero ok ok me lo sono ricordato ora di cos'altro aveva bisogno volevo solo che dimostrasse quindi è cambiata la voce è diventata cattiva un po' di rispetto per i suoi vecchi capisco cosa intende dire sa anche io una figlia questa è una generazione di vizziati gli agenti della polizia hanno ritenuto che la situazione richiedesse un intervento diciamo questo che è una bugia perché pure io sono di questa generazione quindi mi sto offendendo potentemente già comunque l'ho detto solo per aumentare la relazione perché ne abbiamo bisogno lui potrebbe molto aiutarci con il coso quindi lo facciamo già penso che sia stato per il suo tentativo di suicidarsi mi dica qualcosa in più se ha qualcosa in più non è che gli puoi chiedere cose che non sa beh che c'è da dire ho già detto tutto a loro sì dillo a me cioè un anno fa Bella tentò di suicidarsi perché è una cosa comune fra adolescenti ma io onestamente no ma vabbè vai avanti ha preso delle pillole le ho fatte no aspetta aspetta ripetiamo ha preso delle pillole le ho fatto bere dello sciroppo di ipecacquana non abbiamo detto nulla alla polizia ho capito grazie altro basta quanto gli chiedi mamma mia lo stai stressando era una ragazza normale che si voleva suicidare però normale grazie non ho altre domande arrivederci non è che tu hai fatto delle domande tu hai chiesto no aspetta vabbè pure lui arrivederci aspetta prima ha scritto prima no io abbiamo scritto mi dica qualcosa in più poi ho capito no aspetta dall'inizio dall'inizio no ok cosa ha risposto vabbè queste erano domande poi c'è mi dica qualcosa in più ho capito grazie altro grazie non c'è non ha fatto domande lui ha chiesto altro cos'altro mi può dire altro c'è solo questo ho chiesto vabbè arrivederci mi dispiace per la sua perdita spero che comprenda l'identità della sua colpa no mi dispiace per la sua perdita perché dobbiamo aumentare la relazione che non aumenta che schifo ok altre due stelle ho già aperto all'inizio una porta ma io non ci posso creare ma cosa è successo non sarò io a giocare probabilmente un filmato io me ne renderò conto tra 30 anni perché non è possibile che io sono stato così fortunato da riuscire ad aprire una porta così all'inizio senza dover fare niente no non è possibile non è possibile no 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 suona troppo male speriamo che sopra ci sia una cosa verde proprio verde questa è ok possiamo fare un mega non è un quadrato in realtà questo questo è un rettangolo però è un mega rettangolo quindi lo attiviamo così c'è anche la bomba ok poi facciamo questo questo è il quadrato normale vai ho detto quadrato normale parti ok 1 2 no potevo fare ok apriamo un'altra porta ancora apriamone una no si si non sono io a giocare è un filmato per forza no niente lo ripeto perché lo penso non può essere no 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 si si no si no non può essere non può essere no si si ora mi chiede scusi abbiamo sbagliato mi sembrava un altro giocatore lo devi rifare ma non il coso proprio tutto il gioco ah ora compensa mi chiede le cose mi chiede le stelle in più non solo le stelle ci sono i virus eh si per compensare ovvio ma per compensare c'è anche un quadrato giallo ok anche due chiavi direttamente apriamo alla volta no allora sarà sicuro un filmato non ci posso creare cioè sicuro mi starò guardando il video di un altro youtuber sempre di questo gioco non lo so avrò aperto youtube per sbaglio è l'unica soluzione che trovo in mente non posso essere io a giocare no 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 potevo vedere no sono io sono io ok ok ho la prova che sono io perché potevo fare il mega quadrato gigante invece no ho fatto quello normale sono io sono io ok non vi preoccupate ragazzi sono io allora se io riesco a fare quest'unità rossa con la chiave faccio cadere sia una stella che l'altra ecco ora il problema è farcela esatto ecco già iniziano a rompere le unità dai devo trovare il modo di far cadere ho anche un quadrato rosso quello lo apprezzerei anche di più eh non importa non importa va bene pure però non ho fatto cadere l'altro però ho tolto la chiave ci rimango malissimo ma non importa perché non ci serve più ormai ehm sì grazie per starmi mangiando tutte le unità virus molto gentile era proprio il sogno era il mio sogno del cassetto proprio quello mi stanno divorando tutto i virus via via mastri mastri ehm devo far cadere le stelle impossibile loro mi possono mangiare le stelle ok però l'ho fatta cadere e faccio cadere anche l'altra ok queste non me le mangeranno sicuro sicuro non c'è niente sono comunque io quindi è possibile che me le mangino comunque che non rispettino le regole accade anche in faccia al server del virus a lui va bene pure alla stella va bene pure e abbiamo già fatto le due no non sono io allora non sono io non sono io no 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 ho già fatto le due stelle alla velocità della luce non sono io ragazzi non sono io no per niente non posso essere io no ma comunque ci ha scritto Michael in privato ascoltiamo cioè leggiamo sai dove è Ellison sono stato da lei dovevamo vederci non c'è non c'è e non risponde al telefono l'ultima volta che ho parlato con lei è stata stamattina scusate no ora devo no zitto devo vedere no no non è vero è stato è stato l'uno dieci duemila e venti ho rotto tutto quindi non puoi ah ecco perché nelle note c'è scritto quello sono stupido molto stupido comunque quindi mi stai mentendo non è stata per niente stamattina ne sono abbastanza sicuro ok che non ho condizione del tempo infatti non so neanche che giorno è oggi però sono abbastanza sicuro che in questo video non ho parlato con lei e questo video non lo sto registrando di mattina quindi non può essere mi stai mentendo cioè mi sto mentendo da solo vabbè sto mentendo io mamma mia allora lo stesso vale per me no ho sbagliato lo stesso vale per me cosa dovremmo fare sto già iniziando a pensare il peggio doveva chiamare sua madre le chiederò se l'ha fatto un secondo ancora l'assassino allora ha ucciso Bella Green però non ha ancora rapito nessuno e no non mi dire che ha rapito lei può essere ragazzi io già lo sospettavo quindi è molto possibile scrivimi appena sai qualcosa interce ah allora noi abbiamo detto che dovevamo fare una cosa ma ovviamente prima di fare quella cosa intercettiamo eh un'altra conversazione comunque una conversazione molto importante perché tra il capo di Ellen ed Ellen la giornalista che ci aiuta e per colpa di questa eh conversazione di questa intercettazione io ho avuto molti dubbi sul sul fidarmi o no di Ellen perché ho letto dei messaggi strani quindi non lo so se è davvero dalla nostra parte inizia il capo sai che gli altri giornali hanno già ottenuto informazioni sul maniaco e che nonostante ciò non abbiamo un solo articolo approfondito al riguardo un maniaco sta uccidendo ragazze innocenti e lei non riesce a pensare ad altro che a una notizia da sbattere in prima pagina non ho bisogno di una lezione sei licenziata chi se ne frega eh vai avanti però scrivi scrivi licenziala hai fatto un mamma mia con la storia più importante dell'anno come vuole questa settimana verrò a prendere le mie cose vai voglio proprio vedere come farai a trovare un lavoro dopo un fallimento simile carino la parte su a preoccuparsi per me già va bene però direi che possiamo concludere il video sono stupito io mi appropo completamente no no sono stupito ma non dico per questo dico per perché sono riuscito ad hackerare le cose e tanto mi scorderò in questa settimana io ora lo dovrò hackerare off camera la maggior parte me lo scorderò sicuro me lo scorderò ma quanto me lo scorderò non lo farò oggi sicuramente perché sono pigro però lo dovrei fare in questi giorni sicuro ci crediamo tutti ma non importa per oggi direi che possiamo concludere quel video se non siete iscritti iscrivetevi da Fabrics Gamer è tutto ciao ciao solo una curiosità quanto è difficile questo livello no si è impossibile esci 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 esci